Allora intanto è stata una gioia immensa perché due mesi senza lavorare soprattutto per uno che il lavoro il proprio lavoro lo ama è stato veramente duro è stato diciamo una grande soddisfazione poter riaprire e per ricominciare il lavoro diciamo dove l'abbiamo lasciato insomma per quanto riguarda le richieste è cambiato poco perché quello che chiedevano prima diciamo che la gente ha notato un certo ottimismo perché non si è fatta abbattere da questo da questa situazione e quindi c'è gente che pensa diciamo a sposarsi anche verso settembre ottobre dicembre quindi vuol dire che la gente pensa positiva ai contendersi diciamo di stare in campana come si suol dire per questo problema del covid ma neanche diciamo esagerare di condurre una vita non come prima però senza esagerare perché comunque il commercio ha bisogno di diciamo di della gente che gira la gente che si muove e quindi è importante questo si è abituato è entrato in questo diciamo nel queste in questa emergenza nel mio rigore si entrano una volta lavoro quasi tutto per appuntamento quindi non ho grossi problemi anche da questo punto di vista però all'ingresso ho messo il gel ho fatto tutto quello che c'era da fare grazie grazie